Passi in avanti per i lavoratori delle aree di crisi di Gela e Termini Merese. Come annunciato ieri dal Presidente della Regione Siciliana, Rosario Crocetta, è stato siglato l'accordo tra l'assessore al lavoro Gianluca Miciche e le organizzazioni sindacali regionali e provinciali CGL, Cisle e Will per la proroga della Cassa Integrazione destinata ai due poli industriali. Come si legge in una nota dell'assessorato regionale al lavoro, infatti, la quota del 5% delle risorse destinate agli ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2016 verrà assegnata agli operai e alle imprese coinvolte nei processi di ristrutturazione e reindustrializzazione dei due settori. I lavoratori in questione sono complessivamente 750 e comprendono quelli della raffineria di Gela, dove è in corso la riconversione, e quelli di Termini Merese, dove fra qualche settimana dovrebbe iniziare l'attività Blue Tech che ha rilevato lo stabilimento Fiat. Le risorse e residue dell'anno precedente, invece, verranno destinate a colore i quali furono sospesi o licenziati nell'anno 2015 al fine di poter ottenere il sostegno a reddito. Avevamo preso questo impegno con i sindacati, ha affermato Crocetta, e lo abbiamo mantenuto.